Ragazzi, oggi siamo tornati su Fortnite per fare una challenge davvero assurda Una challenge che ho visto dai C-Player Suon Console e mi è piaciuta così tanto Che ho dovuto riportarla sul mio canale insieme al mistico capitano Allora, io questo video non lo volevo fare, partiamo da questo punto di partenza perché non lo volevo fare Dice così ma non è vero Come funziona la challenge? È molto semplice In pratica io ho messo che le skin possono essere selezionate randomicamente tra le 5 skin di questo pass E sulla base di quella che mi capita dovrò andare in quel posto Uccidere il boss, rubare le sue armi e potrò usare solo quelle Inoltre potrò parlare con la voce di quel personaggio Però aspetta Octi, se non sbaglio c'è anche qualcos'altro Aspetta Quindi se mi capitasse il gigante Brutus dovrò parlare così per tutto il video Quindi sarà strano Inoltre Cap potrà darmi delle penitenze quando vuole lui Mi piace Qualsiasi penitenza Quindi ci sono un sacco di cose a cui stare attenti Mi raccomando raga, c'è OctiPFI nello shop Iscrivetevi che siamo quasi arrivati ai 300.000 iscritti Un bel like per fare altri video insieme a Cap E soprattutto seguitemi su Instagram o OctiPFI Ma ora andiamo subito al video Ok Questo era il mio grido di battaglia Questo vuoi Octi, io ancora non ho capito a te quale skin ti è capitata Quindi spiega un attivino perché qua ancora non so dove dobbiamo andare Eh, ancora non lo so neanche io Ancora non lo so neanche io Ok, perfetto Quando salteremo finalmente lo vedrò Mi è capitata la skin del gatto Quindi dobbiamo andare allo yacht Allo yacht, sai dov'è? Sei saltato proprio perfettamente mi dicono Sì, proprio perfetto Ma sai qual è la cosa più bella? Oh, non atterrò mai allo yacht, te lo dico Beh, da cosa ne hai capito? Dal fatto che sei a parco pacifico Oppure dal fatto... Boh, non lo so, eh Ma giusto così per chiedere Effettivamente forse sì, è stato un po' difficile Ma è brutto perché nella lobby ero il gatto E anche adesso ero il gatto Ma chi... Octi, qua abbiamo un altro problema, Octi Altre nemici? Io, a parte che ci sono altri nemici Poi il fatto è che io allo yacht ci sono andato una volta Giusto per provare la season e mi ha fatto schifo Quindi non so niente Ma come? Che è il posto più bello di quelli nuovi Cos'è che hai detto, scusa? Cosa? Ah, ho capito Stavi parlando dell'agenzia Arca miseria, Octi, te lo dico Sono morto Sto nuottando in mezzo al mare Perché c'è gente che mi ha rubato le armi Perfetto E allora siamo morti Benissimo Ok Ma dove sei atterrato esattamente te adesso? Eh, alle case qua vicino Io non l'ho mai scoperto quel posto della mappa Fai te Sto arrivando, Cap Sto arrivando Non lo so, prenditi più tempo Io ormai sono defunto Tranquillo che sto arrivando Sto arrivando Bravo, Cap Vabbè, sono quattro player Sì, sì, scusa, scusa Raga, Cap è scarso Io l'ho chiamato perché pensavo uno Ma questi tedeschi Ma quali tedeschi? Sono tedeschi, sono il nome tedesco Da cosa lo sai? Da cosa lo sai? Hanno Si chiamano Flussisgraffen Hanno i calzini Hanno i calzini sotto le... Come si chiama lì? Sì, sì, sì Hanno i calzini con i sandali No, ma non c'è Oh, ti stai... Oh mio Dio Ma cosa ho fatto? Ma come ho fatto? Fai le pronte con te e fare scarsate Ma com'è possibile? Ok Oh Oh Vedi che questa partita Ora è seria Allora Non è colpa mia Se il gatto è... Otti, c'è la mitraglia Otti! Otti! Ora muoio Vai via! Ora muoio No, sono vivo Non si capisce niente Con sto inventario piccolissimo Allora, Otti Io c'è una cosa Che non volevo proprio dirti Però mi sa che mi tocca Guardi in alto destra Sulla minimap Oh no! No! Otti! Eeeh, vabbè Corri, Otti Corri più veloce della luce Non posso neanche editare Non posso neanche... Questi capitano Come la manna dal cielo Proprio Sì, più o meno Va bene, basta Allora, non l'ho ucciso il gatto Non ho l'arma epica Ma faremo finta di averlo ucciso Di averla E quindi adesso dovrei iniziare A parlare come il gatto Perché il gatto è grosso Vabbè, è giusto Questa mi sembra una gran voce gattile Io non so a casa tua Come parla il tuo gatto Ma a casa mia Il mio gatto Prima parla così Poi parla così Molto simile, molto simile Ok, allora vedi che ci ho preso Perché il gatto parla prima così Poi così Appena becca i nemici Non... Non... Non parla più tranquillamente E parla così È un transformer il tuo gatto No, è trans Più che transformer Allora Si può che tu non muori Quando io devo fare i video? Una cosa dovevi fare Hai capito o no? Io ho capito Che devo fare Ma se te non mi viene ad aiutare Ti lanci dove c'è la grotta Per andare allo yacht Che è dall'altra parte della mappa Ma perché io speravo Di andare alla grotta Perché alla grotta c'è un rampino figo E invece mi tocca andare allo yacht Che fai più bella figura No, non è vero Io sono un gatto carinissimo Infatti adesso mi Mi esce l'arcobaleno dal sedere Faccio Ma ci sono nemici Oh, ogni volta che io devo registrare un gameplay Non trovo un nemico che sia uno Un nemico che sia uno Per carità Intanto restami Poi magari possiamo pensare a nemici Pure ressarti vuoi Pure ressarti Beh sai com'è Gli scudini Cos'è li lasci lì Sì Mi hanno sparato dalla casa Non lo so No vabbè Qua c'è qualcosa che non va Signor Okti C'è qualcuno nella casa E poi ricordati che tu C'è un botto di 7 Fuori safe Okti Oh mio Dio Lanciano Okti preparati perché Ecco Fisciolo Okti Basta Vado a pushare Non pushare Okti Non pushare nessuno Se pushi uno ti attacca gli altri team Eh meglio I veri uomini fanno così Se i veri uomini adesso vogliono Scommettiamo Io non sono un vero uomo Sono un gatto Io poi non ti resto Ma come fanno a mirarmi così bene Ma che mira c'hanno Ma il problema è Come faccio io a trovare solo pistole Qualcuno me lo spieghi È una legge del male Perché non cerchi nei posti giusti Ma cosa dici C'è una jump Hai una jump Adesso me lo dici No C'è una jump Non è mia Ah ok 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 Puoi venire di qua per favore Sto arrivando Posso stare dove Sto cercando anche di non farmi sparare Sai com'è Non è che mi chiamo Okti PFI No no Sai cosa significa Che non ho più materiali Sai cosa significa Che non ho un'arma decente Ok adesso magari si Raga mi faranno saltare in aria Guardate Magari Così almeno vinciamo Ah no Grandi Okti E sono anche morto Incredibile Ok io ora non sparo nessuno State tutti fermi Non mi Non mi dovete guardare Secondo me tra un poco muori Ma cosa stai facendo Ti sembra il momento Di fare una grigliata Puoi andare a fightare I nemici Per favore Io intanto Ho tre medikit E tre scudini Io non sarei morto Se il mio alleato Mi avesse protetto Miau Io non sarei morto Se qualcuno fosse venuto Nella città giusta Nella città giusta Senza far cavolate Guarda che cosa sto facendo Per salvarti Ringraziami Questa sono gli due C'è una jump Lì miau Vai lì davanti E dov'è miau jump È lì davanti Come fai a non vederla Porca miseria Puoi tirarti il medkit Per favore miau Ascolta Mi stai calmo Che mi stai mettendo ansia Eh faccio Faccio apposta Sarebbe il caso Di rianimarmi Non credi Sarebbe il caso Di evitare di morire Di continuo Prendi la jump Che c'è qua a destra È lì davanti Corri Corri Ti giuro che non la vedo Ma sei stupido È a sinistra È lì Ma sei cieco Ma se prima mi dicevi Dov'era Io la trovavo prima Ma io te l'ho detto Miau che non sei oltro C'è una jump Sei proprio il solito Vai subito a rianimarmi In mezzo al parco pacifico Stai zitto Oddio mi sparano anche Corri via Corri via Corri via Che non sei capace Di fightare Che sei scarso Parla Almeno io sono morto Per secondo Intanto Morto per secondo Qua è tipo una staffetta Ma ti sembra il momento Di fare i materiali Ma sto camminando Intanto prendo un po' di materiali Cosa ti fa? Pessima idea Vai a salvarmi Porca miseria Vedi cosa succede Se perdi tempo Perché ho preso i materiali Perché sto salvando Uno scemo Che è morto Perché era un pro player E doveva salvarti il culo Eh sì Certo morto Perché era un pro player Mi sembra Ma ti sembra il momento Di tirarti gli cilini Mi sembra proprio il momento esatto Buildando Gli hai dato la tua posizione Devo insegnarti tutto Non giochi col brain Non giochi col brain Proprio Non giochi col brain Eh non giochi col brain Senti questo Dai muoviti Signore sono tornato in partita Eh non è il problema Miau miau ma da poco Ok Ora ho una pistolina E tanta voglia di fare Dove posso trovare delle armi In questo posto? Capito? Is this maleducazione? No Ok Is this maleducazione? Oh ho trovato delle armi Che fico Oh mamma mia Incredibile Ti giuro che non mi era mai successo Proprio all'interno del gioco In questo gioco di guerra Con le armi Otti Otti La smetti di andare dai nemici Otti Ora muori invece Otti distrai di Porca miseria Sei il player più inutile dell'universo Oh mio dio Pensavo che l'esca che io ho messo Il gatto fosse un nemico silenzioso Penso a te Poi ti dai del pro player da sotto Ti stai avvicinando Il team che mi ha ucciso Otti cosa stai facendo? Vado a ucciderli Ma cosa? Eh sì Vado a nascondermi Bravo Ottima idea Vai dietro il benzinaio Otti Tattica Tattica Amazon Porca miseria Tattica Amazon Sto giocando con un incompetente Bro io uso il brain A differenza tua Il brain per morire lo usi Vecchio brain training Era la mia idea Guarda hai anche trovato i cd Cioè pensi Non li ho trovati per tutta la partita Praticamente questo ritrovo Nessuno sospetterebbe mai No no guarda Specialmente ora che hai messo il pavimento Proprio per quello dico Otti 34 secondi della mia scheda Ce la puoi ancora fare Se vuoi avere una minima speranza Di vincere il game Sì per rianimarti dove? Nel camioncino dove io stesso Sono stato rianimato Che ormai ho scarico E che è circondato dai nemici Esatto Proprio quello Ok Come hai fatto a capire così facilmente Guardare il camioncino? Perché sono intelligente a differenza di te Oh 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 Non posso editare è vero Nessuno Otti ci sono dei tizi fuori Otti cosa stai facendo? Tanto sono stupidi Non mi guardo Madonna che culo Hai visto? Miau miau Ma da fa No vabbè io sto giocando veramente con il Imbecilla Ma guarda tanto scappano Otti 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 Vuoi fare una cosa intelligente Stereo? Apri C'è un bagno davanti a te Dietro la casa davanti a te c'è un bagno Entra di dentro Non ti vede mai nessuno Sì e poi come esco se è fuori safe Eh se è fuori safe Guardalo Guardalo L'hai visto Alla mia skin Oddio Cosa fai con la pistola? Pensavo fosse una mitraglietta Porca miseria Vabbè Ti sei defunto Grande Otti Ottima performance Va bene raga La challenge di oggi Non ha funzionato Proprio per niente Non c'è stata Da cosa non hai capito? Non c'è stata una sola cosa Non ha funzionato Perché giocavo con uno scarso Dimmi la motivazione Per cui non ha funzionato Perché giocavo con uno scarso Scherzo raga mi raccomando Un bel dislike Iscrivetevi al catare di Capitablazer E soprattutto codice Octi PFI No codice K ovviamente No No c'è stata una sola cosa No c'è stata una sola cosa No c'è stata una sola cosa